Per i trovati si riparte con il calcio a 5 dal Sud Pontino, per quello che riguarda la Serie B abbiamo la Fondi Calcio a 5 che dopo la pausa di 15 giorni, l'ultima gara risale al 20 di dicembre scorso, con una sconfitta pervenuta in trasferta contro la capolista Olympus 8-1, ma chiaramente questi giorni sono serviti per testare un po' la squadra e iniziare dal girone di ritorno che partita in questo prossimo weekend. Il Fondi Calcio a 5 giocherà fuori casa contro l'Atlante Grosseto, una gara non certamente facilissima, visto che comunque l'Atlante Grosseto si trova nelle zone di media classifica. anche se molto vicino al Fondi Calcio a 5 che con la vittoria di tre settimane o sono, quella precedente alla controlla capolista, si è un pochino ripresa a livello di classifica, l'andata finì 6-4 per l'Atlante Grosseto, ma stiamo parlando di una squadra del Fondi che sta pian piano crescendo per prepararsi alla prossima stagione. Questa è la situazione appunto per quello che riguarda il Fondi Calcio a 5 che giocherà la prima gara di andata in trasferta contro l'Atlante Grosseto, occasione forse anche questa per portare a casa un risultato positivo. Andiamo al campionato di Serie C-1, questo era un campionato nazionale, Serie C-1 regionale, anche in questo caso dovremmo essere appunto nella fase, sicuramente siamo nella fase di ritorno, sedicesima giornata prima di ritorno con il Minturno che non ha disputato appunto la sua gara in trasferta appunto la settimana prima della pausa appunto di Natale, lo scorso 21 di dicembre, 20 di dicembre, doveva giocare in casa scusate con l'Atlante Calcetto, ma è stata rinviata in questi giorni, si sta giocando il recupero e quindi sicuramente insomma è un dato anche questo importante per capire la classifica del Minturno che ancora è giù, pian piano sta provando a risalire la Chidi, ma non è facile visto le situazioni appunto di Fragan Fortuni e giocatori non tesserati che potrebbero arrivare in questi giorni. Il prossimo match è in casa contro il Lido Ostia, quindi altra occasione per rimpinguare la classifica in attesa del recupero appunto contro il Lazio Calcetto, quindi questo è il quadro anche per il Minturno che comunque, ripeto, questo mese di gennaio aspetta notizie riguardanti il mercato in entrata per proseguire il campionato in giro di ritorno, anche queste altre 15 giornate con una formazione molto più competitiva rispetto a quella attuale, adesso in mano al tecnico Andrea Gardino.